Da un po' di tempo a questa parte tante sono le segnalazioni che riceviamo dagli abitanti di Lizzano e in questa torrida estate soprattutto dagli abitanti della Marina di Lizzano. In più occasioni abbiamo sottolineato varie disfunzioni, varie inefficienze amministrative, abbiamo parlato della sporcizia dei cumuli di rifiuti e di sacchetti non raccolti, abbiamo parlato della mancanza degli scivoli, delle passerelle per i disabili ma vogliamo rappresentarvi una situazione ancora più inquietante. Qui a Marina di Lizzano, località Bagnara, vedete qui c'è questa area, io non sono un tecnico, un geologo o quant'altro, però è molto ma molto evidente vedere come questa area, questa zona, questa cunetta, chiamiamola così, su cui parcheggiano le varie auto sia assolutamente pericolosa e vedete si sgretola, guardate, si può sgretolare, basta toccare, guardate, da un momento all'altro. Qui ho preso una pietra appunto di rappresentativa di questa situazione, vedete l'area è molto ma molto friabile. Io non voglio assolutamente fare, come dire, essere il profeta di sventure, né voglio creare un procurato allarme, però signori cari questa è un'area estremamente friabile, vedete, vedete come si sgretola e immaginate cosa può accadere nel momento in cui ci sono più macchine, nel momento in cui magari piove e quindi come dire la forza, la compattezza della stessa area tende a franare. Ora, non sappiamo, c'è qui una vexata a questio, se l'area è privata o meno, ma in ogni caso, quando anche fosse privata, un'amministrazione opera, innanzitutto contatta i proprietari, ma qualora non ci riuscisse, caro sindaco Doria e caro vice sindaco Morelli, vi dico io come si fa, evidentemente devo dire che non so se lo sapete, perché si procede con l'ordinanza in danno, ossia l'amministrazione comunale provvede e procede a proprie spese per mettere in sicurezza la zona e poi si rivale sul proprietario, perché è ovvio, non è che dobbiamo aspettare una tragedia, non è che dobbiamo aspettare che le macchine collassino, franino e poi si interviene. Signora, voi frequentate questa zona e meglio di me conoscete i rischi, qui davvero da un momento all'altro potrebbero franare le macchine. Esatto, fino a ieri c'era un'auto qui parcheggiata e in effetti come ha visto lei, insomma, anche con una semplice mano, voglio dire, ecco qui, e insomma, se è un privato, se è pubblico, questo non sta a noi dirlo. Si interviene in ogni caso. Si interviene comunque per evitare eventualmente danni irreparabili, almeno un divieto di parcheggio e una vigilanza, fate voi insomma. Vedete, quando si arriva a queste denunce, a queste segnalazioni e quando un'amministrazione non interviene, vuol dire che, signori cari, signor sindaco, signor vice sindaco, vi manca proprio, come dire, l'ABC nell'amministrare una città, nell'amministrare un comune. Questa è una zona meravigliosa, ma come volete voi promuovere il turismo? Tra immondizia, mancanza di scivoli per i disabili, aree che rischiano di franare e di crollare, ma è possibile? Ma a questo punto, signor sindaco, lei è un medico, ma mi consenta la battuta? Non gliel'ha prescritto il medico di fare il sindaco? Continui la sua valida attività di pediatra, ma rassegni le dimissioni da primo cittadino, perché Lizzano, la Marina di Lizzano, gli abitanti di Lizzano, i forestieri, i turisti, meritano ben altro. Questo è un patrimonio dell'UNESCO, ma sinceramente è davvero assurdo che nel 2020 parliamo di queste cose.